Salve a tutti, vediamo come invitare KK sulla nostra isola. Innanzitutto dovete vedervi i miei vecchi video che vi spiegheranno come realizzare il museo, come invitare i primi abitanti, è molto importante soprattutto i primi abitanti. A un certo punto sarà proprio Nook a parlarvi di KK e per prima cosa vi darà il progetto della tenda. Quindi andiamo avanti, vediamo un po'. Ci chiede di migliorare l'immagine generale, quindi per prima cosa noi dobbiamo costruire l'area campeggio che ci servirà per invitare altri abitanti. Ed ecco qua, vediamo un po' cosa serve per costruirla, legno normale, legno morbido, legno duro e minerale di ferro. Una volta costruito il kit dell'area campeggio, lo posizioniamo dove vogliamo e d'ora in poi potranno arrivare i turisti. Ora, bisogna andare anche da Tom Nook a comprare i kit abitativi e costano. Dobbiamo piazzare delle abitazioni vuote e poi tornare qua nell'area turistica per invitare gli abitanti. Oppure potete continuare ad invitarli dalle isole misteriose. L'importante è che ci sia prima un kit abitativo piazzato, ecco. Quindi espandiamo gli abitanti. Intanto ci dice, dopo aver fatto l'area campeggio, che adesso bisogna migliorare la valutazione dell'isola. Ci rimanderà a Fuffi. E non è così difficile portarla a livello 3, serve livello 3 per arrivare a K.K. Allora, noi dobbiamo giornalmente andare da Fuffi e chiedere della valutazione dell'isola. Ora, in questo caso, stavo continuando con Tom Nook. Cosa dovrei fare? Perché mi diceva di chiedergli cosa dovevo fare. L'ultimo compito per il progetto, ecco qua, raccogliere pareri della gente sull'isola, migliorare l'immagine dell'isola. E mi rimanda a Fuffi, appunto. Quindi adesso bisogna migliorare l'immagine dell'isola. Cosa bisogna fare? Allora, innanzitutto, ampliare ancora con le abitazioni, invitare più abitanti. Due, la cosa più importante, ripulire tutte le erbacce sulla nostra isola e utilizzare mobili all'esterno, ovviamente da esterni possibilmente, fiori, tantissimi fiori, decorazioni, non importa come li piazzate. Fortunatamente non dovrete rispettare dei canoni estetici. Da quello che ho capito io è semplicemente il numero di fiori e il numero di mobili posizionati all'esterno. Quindi potete anche metterli un po' alla bella e meglio, però ecco, continuate a farlo. Tornate giornalmente da Fuffi a chiederle la valutazione. Valutazione. In questo caso passiamo dalla valutazione una stella alla valutazione due stelle. Quindi nel mio caso ci siamo quasi. Mi raccomando, piantate molti, molti fiori. In generale, non importa dove, ma piantateli. Continuate a mettere mobili all'esterno e chiedete i pareri. È molto importante perché quando arriverete alla valutazione tre stelline, ci sarà il parere di KK, che si firmerà però in un altro modo. Ecco qua. Torno a chiedere il parere sulla valutazione dell'isola. Valutazione dell'isola. Tre stelle. E adesso abbiamo il commento. Una volta letto questo commento, Tom Nuke capirà che si tratta di KK. Ed eccolo qua. Aspetta un attimo. La firma è KS? Sì, e così non c'è alcun dubbio. KS. Particolare calligrafia si tratta di KK. KK Slider, appunto. E a questo punto dobbiamo solo aspettare il giorno successivo per il concerto. E abbiamo finito. Ufficialmente dovrebbe essere l'ultimo vero obiettivo di Animal Crossing perché arriveranno i titoli di coda, però potete continuare a giocare e si sbloccherà anche la possibilità di migliorare l'isola con la modalità costruzione. Ne parleremo poi in un altro video. Quindi lui invita KK. E il giorno dopo potete sentire il concerto e vedere i titoli di coda. Avrete poi anche nell'inventario la canzone Nuovi Orizzonti, che è quella del menu di Animal Crossing. E una volta terminati i titoli di coda, Tom Nook vi parlerà di nuovo. E oltre a darvi la canzone, come ho detto appunto prima, vi darà anche l'applicazione per modificare l'isola. Inoltre vi dirà che ci sarà il concerto di KK proprio lì sull'isola ogni sabato sera. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti. Grazie.